Grazie mille, sono contento per la prestazione della squadra, oggi siamo stati molto bravi perché è una partita difficile e abbiamo dimostrato di essere una squadra molto compacta. Dopo sì, contento perché avevo bisogno di ritrovare questa fiducia, il gol. Non voglio dimenticarmi di Luca, per me è stato un allenatore bravissimo ma soprattutto è stata una persona molto importante in questo tempo a Udine quindi voglio ringraziarle a lui per quello che ha fatto per me. È una bella candidatura questa doppietta. Sì, sì, il mister Cioffi ha deciso di tornare a questo sistema e noi lo conosciamo perché è da due anni e mesi che lavoriamo con questo sistema però penso che l'importante non è il sistema se non l'atteggiamento che abbiamo avuto in questa partita con il Milan e soprattutto anche oggi che era una partita molto difficile e l'abbiamo risolto sul primo tempo dopo siamo stati bravi a gestire un po' la partita.